Amore, ciao! Lo sai che il papà ti ama tantissimo? Io no! Eh? Io no! Come tu no? Non lo ami tanto il papà? No! Neanche un po'? No! Neanche un po'! Vuoi piangere, baby! Sei tutta sporca di cioccolato! Ma lo ami un pochino o no? Dai, tanto così, va bene? Così va bene? Ok? No! Come no? No! She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the prize I have to pay Amore, becchio nesta! Che ti amore! Che ti amore! Che ti amore! Che ti amare! Chancar con me si cuore! Che stanno a faiore! Che ti amare! Che ti amare! Mentre me si cuore! Che ti amare! Che ci amare! Che ti amare! di Aristotele, e non aver finito l'università, e per la strada passa un cane, e mi ricordo di aver fame, 10 agosto, tutti al mare, c'è un caldo che si muore, tu che sta ancora in bagnone, 10 agosto, batte il sole, lo so che sono un tipo strano, non ti ho mai detto che ti amo, e che non so come dirtelo, ma ci devo lavorare su, mi dici che non so guidare, che faccio schifo a cucinare, ma poi mi segni tu, 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 oltre passare il limite il giorno del mio compleanno è venuto a visitarci il ghiro, e Pietro l'ha preso, adesso lo portiamo nei boschi Cos'è c'è? Adesso vai nel boschetto, amore, adesso vai nel boschetto libero, ti diamo ancora un'altra noce da portare nel boschetto, ciao! Ragazzi qua bene? Siete comodi? Rilassati? Adesso mi ho capito perché non ci chiamavi non lavorate troppo eh, non lavorate troppo eh! Ciao! Forza! Ragazze venite! Mia Lolli! Lolli mia! Forza forza! 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 Venite! Venite! 10 agosto, tutti al mare, c'è un caldo che si muore, tutti stai ancora in baglione, 10 agosto, batte il sole! When I met you in the summer When I met you in the summer Se non pagate 950 euro in bitcoin a questo wallet, sappiate che è una truffa, è uno scam, non è vero questa mail, arriva a tutti, quindi bloccate l'indirizzo e buttate la mail, vi spiegherò come riconoscere le truffe ovviamente nel videocorso che sarà a vostra disposizione da domenica alle 430. Se vi arriva una mail del genere, mi raccomando, buttatela via! Non andate a sbattimento perché tanti miei amici dicono, oh mamma mia che cosa è successo, non devo pagare! No, non dovete pagare nulla! Buttate la mail e bloccate l'indirizzo, ok? Ciao! Devo portare mia moglie a mangiare fuori e lei è messa così! Amore, dobbiamo andare? Amore? Ehi! Dobbiamo andare, forza! Mazza, oh! Dove devi andare stasera a sposarti? Non c'è a sposarla! Mamma mia, oh! Non è mai tardi per cercare il terzo marito! Mamma mia! Io sono vestito meglio però! E anche qua in macchina, è molto arzilla, molto felice di andare fuori con me a mangiare, amore! Amore, amore! Sei molto arzilla, devo dire che sei presa bene, eh! Sto riposando il cervello e che io, come dice la beve, io uso il cervello tutto il giorno! Amore, sei contenta che finalmente ti ho portato fuori a mangiare? Insieme? E ora, no! Solo io e te? L'ultima volta è stata in Sardegna, ad agosto, no luglio... L'ultima volta è stata nel 100 avanti Cristo! Siamo bellissimi, eh! Allora qua, pappa col pomodoro, pizza con il tartufo, acciughe... E' un'acciuga, ecco quella qua, un'acciuga! Un'acciuga bellissima! Ciao acciuga! Voglio confitarmi con voi perché sono parecchio in ansia per gli eventi sportivi delle prossime 24 ore! Alle 6 di mattina c'è Conor McGregor! Alle 3 di pomeriggio c'è Berrettini, il primo italiano nella storia in finale a Wimbledon! Alle 9 di sera, domani sera, c'è la finale dell'Italia e degli europei, Italia contro Inghilterra a Wimbledon! E domani notte, alle 2 di mattina, c'è la finale di Coppa America-Argentina-Brasile! Sto male! Scusate ragazzi, sto fuori come una mina! La finale è questa sera! Argentina-Brasile e la finale dell'Italia non è a Wimbledon, ma è Wimbledon! Vi l'ho detto, sono in live, ragazzi! Wimbledon! Wimbledon, vabbè, sono in live! Wimbledon! Io che aspetto la partita, è ufficiale, non arriverò questa sera, ragazzi! Non arriverò a questa sera! Non ci arriverò! No, 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 no! C'ho già il cuore che va a 300 all'ora, ragazzi! Sì... Poi che è infatti! Sì... Non capisca! Alla... Gli... Sì... Sì... Sunrise... E un sacco... ... E un sacco... ... Italia-Inghilterra, la finale della Coppa Europea. Chi vince? Italia. Quanto vince?